Come potremmo scannare le arterie coronarie in un paciente con la fibrillazione atrial? Normalmente la migliore forma di migliorare le arterie coronarie è di scannare il ritmo sinusalato usando la fase diastolica. È conosciuto che la durazione della diastole è la parte variavata del ciclo cardinico. Quindi quando abbiamo un paciente aritmico, la durazione della fase diastolica è quella con nessuna variabilità. Quando abbiamo bisogno di scannare un paciente con la fibrillazione atrial, potremmo fare un scannare retrospettivo usando la fase diastolica. Vediamo un stude coronario in un paciente con la fibrillazione atrial e la dolce torace. La frequenza variavata era di 85 bit per minuto. È stato administrato in metoprolol e è deciso di fare un scannare retrospettivo e la scannare retrospettivo con la scannare retrospettivo con la scannare retrospettivo con la fibrillazione atrial. Come vediamo, a 75 bit per minuto nel ritmo di fibrillazione atrial, la scannare diastolica era suboptimal per la evaluazione coronaria. In reverse, la fase diastolica era di buona qualità per l'evaluazione delle arterie coronarie. Come vediamo, non ci sono artefatti di movimento per causa dell'arrhythmia. La ricostruzione multiplanare delle arterie coronarie è stata anche facilmente analizzata. Possiamo chiaramente vedere l'arterio descendo l'arterio, la right coronaria e la circunflexa circunflexa. No significante malattie coronarie erano detecute. Guardando le campanze cardiazze, potete notare un'acqua di contrasto nell'appendaggio retrospettivo con la scannare retrospettivo con la trombus. è confermato nella ricostruzione multiplanare. Finalmente, la presenza dell'atrial fibrillazione non rende impossibile fare un buon scannare di scannare. In questi casi, la scelta di analizzare le arterie coronarie nella fase sistolica potrebbe essere una buona opzione. La scelta di analizzazione dell'atrial dovrebbe essere sempre inclusa nella scelta. e di analizzazione della scelta. Il nostro corso di analizzazione dell'atrial è vero che non sono mai la scelta di analizzazione dell'atrial